Cari spettatori, benvenuti sul mio canale. Sono qui con un video fantastico. C'è una nuova notizia da Ali Libraim e Sola Turkoglu. La dimensione della relazione tra Ali Libraim e Sola Turkoglu è riuscita a scuotere il mondo delle riviste. Ma il mondo intero rende le relazioni delle coppie famose spesso oggetto di speculazioni e pettegolezzi. Tuttavia, la relazione tra Gesso e Ali Libraim sembra essere chiusa a tali speculazioni. I fan sperano che dopo questo messaggio romantico il rapporto della coppia si rafforzi e possano condividere di più. Credono che la relazione della coppia si rafforzerà e raggiungerà più masse di latticello. Tuttavia, è un dato di fatto che Sola e Ali Libraim rispettano la loro vita privata e la mantengono privata. Quindi era una questione di curiosità se la fattoria avrebbe continuato a condividere questi ricordi intimi. Sembra che le piattaforme di social media continueranno a essere uno strumento con cui le celebrità possono condividere la propria vita con il pubblico. Ma è il motivo per cui ogni post attira l'attenzione di media e fan. Come il messaggio d'amore del liquido al suo fidanzato. Di conseguenza, il fatto che lei abbia chiamato Ali Libraim, amore mio, si è trasformato in un grande evento nel mondo delle riviste e ha reso felici i fan.